La Polizia di Stato ha eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Torino, su delega della Procura della Repubblica, nei confronti di un gruppo di cittadini nigeriani sospettati di appartenere al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato EI. I provvedimenti restrittivi sono stati disposti all'esito di lunghe e complesse indagini e hanno riguardato complessivamente 16 persone, delle quali 11 ne sono state rintracciate sul territorio nazionale. Per la realizzazione della fase esecutiva sono stati impiegati complessivamente oltre 100 uomini della Polizia di Stato, con l'utilizzo di reparti di rinforzo del controllo del territorio, oltre alla squadra mobile di Torino. L'attività è coinvolta anche gli omologhi uffici delle questure di Cuneo, Varese, Bergamo e Livorno. Secondo l'ipotesi d'accusa, i provvedimenti cautelari riguarderebbero personaggi sospettati di rappresentare il vertice del livello nazionale dell'organigramma, direttamente incaricato delle nuove affiliazioni e della gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle varie piazze cittadine. Le indagini hanno consentito la raccolta di rilevanti indizi in grado di suffragare l'ipotesi dell'esistenza e dell'incidenza sul territorio del capoluogo piemontese del Calt e degli EI, grazie alle evidenze emerse sia dalle intercettazioni che dalle testimonianze di alcune persone appartenenti alla comunità nigeriana di Torino. Come tutte le confraternite nigeriane, vi sono elementi per ritenere che gli EI abbiano i loro segni distintivi. Come simbolo un uccello, tavolta raffigurato mentre stringe tra gli artigli un teschi umano, mentre il colore abitualmente indossato è il blu. Secondo l'ipotesi d'accusa, sono stati raccolti significativi indizi di colpevolezza a carico dei sodali. In base alle risultanze dell'indagine, il Tribunale di Torino ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di 16 persone, contestando, oltre al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, i delitti di rapina, estorsione, lesioni e reati in materia di stupefacenti. Vi sono gravi indizi per ritenere che l'organizzazione investigativa presenti tutti i caratteri di un'associazione di tipo mafioso. Ok, aspetta.